Ehi, ciao a tutti, io sono Trevi, do il benvenuto a questo quarto e ultimo episodio su Resident Evil Survival per PlayStation 1, continuiamo. Allora, andiamo di qua, allora, non manca più molto, più o meno 20-25 minuti, più o meno la durata dei miei video, allora, già è vero, guardate a lei quanti ce ne sono e io me ne lamentavo di due. Chi sarà mai? Ullal, mister pelatino schiacciatino, mister pelatino schiacciatino, allora, spariamoli, 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 spariamoli. Dai, 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 dai. Le ricarica ma se li fa... Eh va, fangulo. Vabbè che è un colpo, meno male, se abbiamo tutta la vita, rimaniamo verdi, eh. Eh, però se non lo bec... Dai. Vai. Porca miseria. Eh, mirare è sempre un po' una merda, eh. Poi uno parla e fa cagate. Dai, gli manca poco. Ok. E anche lui tolto dei marons. Ci ha dato delle munizioni del pompa che prenderemo subito e utilizzeremo subito. Allora. Ok. Dunque. Eh, p-p-p-p-p. No? Dove cazzarola sono? Dai, sono un po' ritardato. Ecco, shotgun combina. E l'arma... Do sta? Shotgun. Eccola qua. Adesso le equipaggiamo anche. E direi che possiamo andare avanti. Ok. Il perché lo capirete fra pochi secondi, per come il sol pompa, eh. Il perché lo capirete fra pochi secondi, per come il solito, per come il solito, per come il solito, per come il solito, per come il solito. Il perché lo capirete fra pochi secondi, per come il solito, per come il solito, per come il solito, per come il solito, per come il solito. Un bug dell'emulatore, un bug. Un bug dell'emulatore, un affambo. Mi dispiace un casino, è che sia così bugato. Ecco perché ho preso il pompa. Lott! 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 Then why did you run away from me? Because I'm the one that told Vincent about you. Hello. I'm Vincent. I've been transferred to this facility to inspect it. Nice to meet you, sir. I know Commander Vincent. So I knew that you weren't him when I saw you. What? A spy? Hmm... Thank you. You are a good boy, Lot. So then I'm Ark, and not Vincent. Call for the shade, huh? Lot, do you know of any way to get off this island? My dad told me that there's a railway station up ahead from here. A railway station? I heard that it comes underground. Okay. We'll use that. Let's go get Lily. Go ahead. Hurry. We'll meet at the station. The self-destruction system has been activated. This island will self-destruction in ten minutes. All the personnel will evacuate immediately. Repeat. All the personnel evacuate immediately. Just... And when I leave it... ... ... I'm sorry. While I leave it like this one? I'm sorry, but... ... ... ... ... Che male non ci fa. E andiamo nella porticina. Dunque. Fatemi un po' vedi. Forse era meglio che mettevo la pistola. C'è un po' vedi. Dicci la vera. Tu sei un po' vedi, non? Sì, non sono Vincent, sono Ark! Allora, andiamo di qua, appena finito il video abbiamo saputo che il nostro amico è Leon, S. Kennedy. Allora. Dunque. Ah, ok, ho già fatto il bottone, senza volerlo. Lo facciamo così. Dai, prendi, grandissimo. E, no, e, babaffanculo, dai, 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 esci. Bon, fregati così. La vita come sta, mi sa che è ancora verde perché sulla fine ho preso solo due coppi. Com'è la vita? Perde, dai. Allora. Mettiamoci la pistola. Che stando cazzo sta la pistola di M? Mettiamola. Ok. Schiacciamo questo pulsante. Ok. Poi spariamo alle piante. Ok, una è andata. Mettiamoci qua giù. E sconfiggiamo anche la seconda. Ok, bom. Dunque, io scarico la pistola qua. E poi... E poi... Ehm... Ma non so se mettermi il pompa. Ma sì, mettiamo il pompa, va. Usiamolo un po'. Non subito, ma... Fra pochissimo. Su tutti gli schermi. Vedrete un bel combattimento con il pompazzo. Pazzo. Oh. Se ne apre la porta. Allora. Qua c'è un file da prendere. Lo prendiamo. Come sempre, mi lascio un paio di secondi per leggere il tutto. Mettete in pausa. Vabbè che non c'è scritto tantissime cose. Però questa parte qua invece. Qua là. Poi qua c'è questo bel signorino. Adesso ve lo faccio vedere qua nella capsula. Veramente bello. Guardate lì che corpicino, eh. Quindi hanno la chiave che è qua. E andiamo. Di qua nella... Ritorniamo nella stanza dove ho lasciato gli zombie. Potevo ucciderli prima. E va bene, tanto. È più o meno uguale, dai. Ma magari riusciamo a evitarli. Che? 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 Che. Non ce ne credo che non è già già nascita. Sei un uomo. Che deve essere leader di unico sottotitolo. Unit sent by Umbrella To destroy the evidence of this biohazard Whatever I don't have time for your pathetic games I have already sent the self-destruction system This island will be gone in a matter of minutes Adios, Ark To destroy the evidence of this biohazard To destroy the evidence of this biohazard Porchè puttina c'è nel codicino Uh no, pensavo di averlo evitato Colpi non abbiamo più Allora mettiamo items Allora Mettiamo lanciapatate Però quali li metto? Mettiamo questa Combina 18 E che cazzo faccio? Girati Ma piccio Ho lasciato il pompa Eh ma sono proprio furbo Oh Porco Porco giunta Bastardo Oh L'abbiamo sconfitto Sì Oh Va a cagare Dunque adesso ci conviene mettere la pistola Se ricordo Bene Dunque la pistola Eh mettiamo B La O la C Mettiamo la Ci ha più colpi Sì, sì. Sì, sì. No, bastardo. Guardalo. Ah, è gialla. Diciamo, non mi tolgono più vita. Che cazzo, si è faggato qualcos'altro. Cioè, poi io ero contento. Questo non mi toglieva vita. Dai. Scappiamo, 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 scappiamo. Oh, arca miseria. Vado voi, qui c'è un pezzo. Con ste scimmie di merda. Eh, è qua il pezzo. Allora, voi andate nel treno. Io faccio così. Allora, dai. Ovviamente non mi posso muovere. Eh, andate via immediatamente. Ma se non mi fa muovere, porca puttina. Una porca puttina. Ok. Ah, ma ce l'ho praticamente a carichi. Pensavo che... Dovessi caricare l'arma. Allora, qua ci sono delle munizioni. Le prendiamo. Del pompa. Anche se non so che cazzo me ne faccio. Però... Però... Carico il pompa. A caso mai... Dovesse servirmi alla combina. Allora... Un ragazzo shotgun. Allora, buon. Andiamo in là. Adesso qua c'è una parte che dà merda. Perché ci sono gli scimmioni che ci sparano. Allora, girati veloce. Va a cagare, va. Ah, la vita. Item. Ve l'avevo detto. Ma co... Cosa? Ah, è qua. Mamma mia. Dai. Ma perché mi mira su? Vai a cagare. Scappa, scappa, corri. Dai. Oh. E che poi si banga la visuale. Ti mira su per mirare agli altri. E lì rischi veramente di crepare. Meno male che... È andata bene, va. Ma... Poteva andare meglio, ma anche peggio. Cristo! Cristo! Appena detto Cristo, muoviti. Sì. Allora. Qua, ovviamente, non è che c'è qualcosa. Io non ricordo, ma credo che no. Porco Giuda. Eh, mi farebbe comodo almeno avere uno spray dietro. Allora. Adesso... Mettiamoci... Eh, mettiamoci a Magnum, va. Allora, items... Magnum. Trecchers e Magnum. No, questi qua sono i proiettili. Abbiamo... 18 proiettili. Sì, equipaggio. Granate, invece, qua. Dove lancio a granate? Che forse... Lo ricarico. Saranno uguali, queste? Visto che ci sono due proiettili qua. Mi organizzo già un po'. Combina, fa un po' 20. Vi tagliereste parti, ma... Ve le lascio per completezza. Sì, ok, 15. Quindi 15 granate e 18 proiettili della Magnum. Speriamo bene. Speriamo bene. Il helicoptero! Ma che cazzo? È ancora vivo! Allora... Concentrazione, eh? Che questo è il boss finale. Dai, uh! Dai, no! Bastardo! Vaffanculo! Allora, corri, scappa! Che culo! Dai, ma... È veramente bastardo! Che culo che non mi ha colpito! Dai, ma... Ah... Che culo che... Che culo che... Che culo che... Allora... Ho ancora un proiettile lì... Cosa uso altro? Allora... Potremmo usare lanciagranate... Però io forse... Prima userei quelle... Acide... Ah! Prima spariamo il colpo di mano... Così... Poi... Items... Ehm... Le acide... Combina... Equipaggia... Poi... Poi... Lasciamone una... Ehm... Prendo anche quelle... Del fuoco... Combina... Lo speriamo... Dai... Eh... Eh... Però... Sì... Ma se non ti... Eh... Ma si incastra ogni tanto, eh... Porca di sta... Puttana... Poi... Items... E adesso... Mettiamone... Dov'è l'altra acida? L'ultima acida... Speriamo che... Che vada bene... Perché non so se ne ho abbastanza... E vaffanculo... Mi ha beccato... E adesso mettiamo le altre... Allora... Qua... Combina... Preparimento... Mettila... Posta... ... ... Putting sense lost... Daaaai! Eeeh, il POMP allora, madro! Dai! Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Al belissimo! Oh, madro! Voi non sapete un batticuore! Sì! 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 Ten second to detonation! Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. No, 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 no. Get down! What are we going to do, mister? Yeah, what are we going to do? I don't know, but don't worry. We can fly as long as we have fuel. Ok, l'abbiamo finito anche questo, Resident Evil Survive, un gioco veramente molto bello. Mi scuso molto, se quel che avete visto non è perfetto, ma non è colpa mia, Duck Station probabilmente ha qualche problema con questo gioco. Me ne fossi accorto prima, l'avrei iniziato magari con EPSX, gli bastava solo che ficcavo il disco originale, era un po' meno bello da vedere, però vabbè, magari era migliore. Non puoi controllare come va su quell'emulatore lì, sono molto contento di avervelo portato anche se aveva dei problemi grafici, però vabbè. Spero che nonostante tutto vi sia piaciuta questa serie, non sono stato perfettissimo, ho fatto andare un botto di cure, però alla fine ce l'ho fatta, finirlo senza crepare, come un balengo. Per pochissimo, secondo me mi dava mezzo colpo ancora e venivo atterrato. Purtroppo ci sono anche dei problemini dovuti sempre all'emulazione. Se avete visto alcune cose si rimpicciolivano, ingrandivano, infatti delle volte l'ho notato bene con l'editing. Non tutti i colpi sparati andavano a segno, perché chissà la hitbox si è fottuta allegramente, come è capitato delle volte dei nemici che mi colpivano, però sembrava che non mi colpissero. Non si sa bene che cazzo di versione ho giocato, la versione è rotta. Allora, sulla fine credo che in qualsiasi serie qualche problema l'ho sempre avuto. E vabbè, adesso aspettiamo la fine dei titoli di coda, perché non mi ricordo se alla fine di questo gioco ci dà un rank, ci dice quanto ci ho messo, non me lo ricordo. Forse non ce lo dice, però voglio aspettare per vedere, ma credo di non averci neanche messo tanto, forse sotto le due ore. Dobbiamo poi guardare, i titoli di coda non dovrebbero essere troppo lunghi, sennò vi rompo troppo le scatole, io non mi sa che sono quasi finiti, dai. Spero anche che la musica non sia coperta dal copyright. E niente, fatemi sapere sotto nei commenti, vabbè, se vi è piaciuta la serie e se conoscevate e vi è piaciuto questo bel titolo. E io spero che prima o poi magari Capcom faccia una collection, qualcosa, una remastered da poter giocare anche adesso. Allora, vediamo un po', ecco qua il risultato. Oh, ma ci ho messo veramente un cazzo. Un'ora e ventidue, trentatré. Hit, settantun per cento. Kill head monster, centododici. Totale centododici. Continuo è zero, perché non sono mai morto. Gun collection, quattro, cinque stelle. Su otto. Aranca A. Mamma mia, non pensavo, eh. Non pensavo. E non mi ricordo più se c'era questa cosa alla fine del gioco, quindi avete anche potuto vedere questo. Salviamo, memory card. Dai, quanto ci metti a salvare? Yes, dai. Così concludo in bellezza. E niente, ancora una volta un saluto da Criu e alla prossima serie. Ciao, ciao.